ciao stefano e benvenuto stefano borgognoni ciao marco tutto bene 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 piacere di vederti anche se ancora a distanza ma prima o poi ci rivedremo fisicamente ci rivediamo da voi magari facciamo passare questo periodo visto che so che in bolzano fa caldo quasi anzi più di milano sì sì vero vero molto affosa sarà un bel momento quando ci rivedremo e senti allora io la prima cosa che mi sono un po segnato per questa chiacchierata e questa credo che in questo momento volevo chiederti un po ti immagino di immagino come banca come istituzione quindi come persone stanchi e però molto carichi perché avete giocato un ruolo e state loro state giocando lo giocherete ancora di più in questa partita molto importante a livello italiano e quindi come cittadino lo dico anche come istituzione bancaria perché credo che sia stato anche un momento di rilancio se ce n'era bisogno in certi veri per certi versi del ruolo proprio di istituzione come banca come come l'avete vissuta ma allora sì diciamo stanchi e motivati mi sembra molto molto corretto nel rappresentare diciamo l'attuale l'attuale momento stanchezza deriva un po da tutto quello che c'è stato nei mesi nei mesi scorsi chiaramente credo che tutto il sistema sia stanco sia in qualche modo ancora scioccato dagli eventi che abbiamo vissuti vissuto noi come istituzione siamo stati chiamati naturalmente ad essere molto presenti perché è vero che l'istituzione banca ha costituito nelle prime settimane di attuazione dei vari decreti liquidità come dire anche un po un capro espiatorio io qui dico per quanto ci riguarda parlando di noi e non del sistema sparcasse banca territoriale molto vicina al territorio e essendo anche un territorio particolare in quanto ad autonomia ha avuto la responsabilità indubbiamente anche la fatica di mettere a terra un percorso di come dire supporto alle aziende parlo di nuova liquidità ma anche di moratorie che si rifacesse in parte alla normativa nazionale perché siamo presenti in territori anche fuori dalla nostra provincia d'origine e in parte alla normativa locale perché la provincia autonoma di bolzano e anche la provincia autonoma di trento hanno avuto l'autonomia di poter avere dei propri provvedimenti sulla parte del credito ai quali naturalmente hanno aderito le banche locali tra cui evidentemente anche sparcasse quindi c'è stata una grande come dire concentrazione in quelle settimane per poter dare il supporto necessario al tessuto economico alle famiglie alle imprese in tempi brevi in modo efficace devo dire che guardando i numeri ma guardando anche un po sentendo il sentiment dell'opinione pubblica ripeto avendo un territorio di riferimento core abbastanza circoscritto banalmente anche girando per strada sentiamo l'opinione pubblica oltre che leggerla sui giornali locali credo che sparcasse abbia risposto in maniera positiva ad un momento senz'altro non positivo però dove si sta cercando di superarlo anche come sistema locale motivati e sulla motivazione una battuta molto motivati perché comunque crediamo che in quel momento di difficoltà la banca noi abbiamo conosciuto anche o meglio rivissuto l'importanza del ruolo che come infrastruttura viviamo e abbiamo all'interno diciamo della vita di famiglie e imprese quindi io dico che è per noi nella difficoltà e nella negatività scusa un attimo chiedo alla collega scusa nella negatività del momento credo che sia comunque un'opportunità per riesaminare il nostro ruolo acquisendo ancora più responsabilità e in questo la motivazione è legata al fatto che i segnali che abbiamo raccolto nel periodo di lockdown dove noi eravamo naturalmente aperti come infrastruttura strategica e iperattivi è un segnale che ci dice che la clientela è invece molto come dire attenta alla risposta che la banca dà in termini di servizio anche in un momento così difficile e quindi abbiamo visto predisposizione ad avere contatti con noi con nuove forme con nuovi canali oppure anche quindi parlo della consulenza a distanza quella telefonica quella con teams oppure anche della predisposizione per chi non aveva invece la dimestichezza con questi strumenti magari la clientela un po più avanti con l'età la volontà comunque di venire a parlare dei propri risparmi a parlare di tematiche economiche che sono bisogni primari delle persone fissando appuntamento quindi si è cambiata anche un po la dinamica di relazione e credo che la motivazione stia nel fatto che abbiamo davanti alcune indicazioni chiare delle nuove modalità di servizio che i clienti apprezzano e quindi la progettazione di questi nuovi canali ci impegnerà per la parte più motivante diciamo ovviamente è la parte di trasformazione trasformazione più forte ma mentre parlavi proseguendo con gli opposti che secondo me stanchezza motivazione penso a distanza e vicinanza è come se in questo momento dove siamo tutti stati più distanti in realtà lato diciamo rapporto quindi relazione con alcune aziende in questo caso vanca ma in generale con alcune marche avete sentito quasi più necessità di essere più vicini come come istituzione no allora questo è in realtà ci siamo trovati tutti un po scompensati da questa situazione e ci siamo un po allarmati poi c'è stato la possibilità attraverso strumenti di avvicinarci ma l'abbiamo richiesto più noi cioè io sono convinto e d'accordo con te che in alcune situazioni le persone si sono ritrovate a pensare a determinate loro priorità come per esempio quella del risparmio come per esempio quella dell'investimento sul futuro e prima magari la lasciavano più in sordina dicevano sì ma poi se sì poi mi vogliono un po vendere quelli invece sono stati quasi più loro a chiedere. No posso ti do guarda un dato interessante perché noi abbiamo voluto anche indagare abbiamo affidato a un istituto di ricerca di mercato un'indagine che abbiamo appena terminato di realizzare su un campione rappresentativo della nostra dei nostri clienti quindi parliamo di clienti sparcassi. Allora diciamo che emergono alcuni elementi importanti intanto il 75% dei rispondenti dice che ha avuto più contatti con la banca durante il periodo di lockdown anche se a distanza quindi si è sentito come dire contattato dalla banca in maniera proattiva in un momento sicuramente difficile ricordiamolo mercati diciamo indici di volatilità mai visti situazioni naturalmente di debiti in corso di mutui piuttosto che di altre forme di indebitamento da dover sospendere con le moratorie quindi la necessità di contatto esisteva la banca non ha aspettato la clientela ma è andata a contattare la clientela con queste forme a distanza e il 97% di questi rispondenti di chi ha avuto il contatto a distanza ha apprezzato il tipo di approccio e il tipo di consulenza e diciamo su vari canali perché poi di questi c'è stato chi ha detto che ha apprezzato l'utilizzo apprezzato di più del solito la disponibilità dei canali digitali per disporre per effettuare ordini di dispositivi quindi parlo dei tipici canali di internet banking altri hanno invece indicato il contatto telefonico come un contatto che prima se volete era meno meno usato però è diventato diffuso anche con queste forme nuove di video chiamata e molti hanno dato ancora grande rilevanza alla possibilità attraverso la telefonata proattiva della banca di non affrontare il dettaglio dell'argomento ma di fissare un appuntamento ricordiamo noi eravamo aperti su appuntamento la possibilità di andare in banca su appuntamento sapendo che arrivo mi ricevono non ho attesa è stata anche un altro elemento molto apprezzato quindi sì c'è stata una forte sensibilità lato nostro di andare proattivamente a contattare i clienti e questo credo che abbiamo raccolto dei segnali positivi anche di risposta questo credo che sia sempre per continuare su questo bel concetto un po degli opposti è un po qui non sono opposti ma sono due cose che si devono incontrare no la domanda dell'offerta intere che stiamo lì a girarci intorno e in tutti i business è così allora penso che questo tipo di domanda del voler vivere una relazione sempre più nativa integrata dove non mi rendo conto se sono da una parte dall'altra e l'attivo in base a quello che mi serve no anche cambiando chi sono io io oggi sono un padre di famiglia un tre ore dopo magari sono un imprenditore perché sono un'altra persona in base a questo vivo determinati rapporti con questa banca allora dico forse l'altro posto che dovremmo un po sul quale dovremmo andare un po oltre è che forse l'era della standardizzazione di presenza su un canale sono fatto così su un altro canale fatto così e quindi nel fisico ho una serie di formati tutti uguali che poi sviluppo nello stesso modo nel digitale ho altri formati più o meno di valora sul sito sono forse il digitale è già avanti rispetto a questo perché la fruizione della mia esperienza che ho tramite l'app che ho tramite la parte destra che ho poi tramite una persona in video eccetera di per sé già mi cambia ed è importante che voi siate in grado di valorizzarla cioè se io sto interagendo attraverso l'app probabilmente ho un certo tipo di tempo modalità eccetera questo però nel fisico succede meno nel senso che succede trovo il mio forma di filiale che ha un momento di accoglienza poi l'abbiamo disegnato anche insieme però è un po più standardizzato forse anche sul fisico dovremmo portare questa attitudine fammi dire più digitale cioè avere diverse modalità con cui interagire con il cliente non so sì ma allora adesso hai toccato molti temi provo a rimetterli in fila e cercare di dare un po la nostra chiave di lettura che poi è nostra auspicabilmente corretta altrimenti andiamo a fare scelte di investimento sbagliate allora il tema intanto hai toccato il tema dell'omnicanalità che è un tema certamente diciamo non nuovo nel senso che sono anni che si parla di omnicanalità ma credo che sia un tema che l'esperienza covid abbia reso urgente non più importante ma addirittura urgente e urgente nel senso che la comodità di fruizione del servizio bancario in questo caso credo che sia uno degli elementi di competizione fondamentale più forse del pricing stesso in futuro e per comodità intendo la possibilità di fare sul canale che preferisco sul canale che preferisco in quel momento quante più operazioni possibile noi stiamo sviluppando in questo senso la nostra nuova piattaforma di internet banking che chiamo così adesso con te per identificare di cosa sto parlando ma in realtà ci siamo addirittura dato il divieto all'interno di chiamarlo internet banking perché la chiamiamo piattaforma digitale dei servizi poi stiamo studiando anche un nuovo brand da lanciare e perché lo stiamo chiamando così perché l'internet banking sarà un di cui noi oggi conosciamo l'internet banking tipicamente perché ci permette di fare delle operazioni transazionali per lo più evitando di andare classicamente al banco della cassa della banca vedo il mio conto dispongo ecco in realtà lì inseriamo tutta una serie di servizi aggiuntivi sia del mondo banking più tradizionale che anche del mondo nuovo non strettamente bancario che in questo da un paio d'anni nella nostra banca abbiamo introdotto mi riferisco al noleggio a lungo termine delle auto delle autovetture mi riferisco alla fornitura di energie gas quindi la possibilità di stipulare con il partner industriale al peria quelli che sono i contratti di fornitura di energie gas per le abitazioni ecco questo si aggiunge a tutto il mondo tipico assicurativo piuttosto che del credito piuttosto che della consulenza patrimoniale e tutto fruibile sulla piattaforma sì l'abbiamo abbiamo siccome chiaramente sviluppare tutto subito è sempre diciamo difficile e forse non è neanche utile nel senso che poi devi dare il tempo ai clienti di assorbire anche l'innovazione e quindi abbiamo una classica roadmap di rilascio dove le attività che andremo attraverso le quali andremo a popolare questa piattaforma di servizi rientrano in tre grosse famiglie quella se volete commerciale quindi della proposta della proposta personalizzata perché attraverso l'utilizzo dei dati riusciremo a fare in modo che l'area per te di marco sarà diversa come proposition perché lui risulta in target in due tre delle opportunità che possiamo proporre rispetto alla area per te di luisa saranno completamente diverse nella proposta e quindi nei contenuti poi c'è una seconda area che è quella chiamiamola dell'innovazione che la distingo dal business nel senso che lì è più parlo di per esempio instant insurance parlo di possibilità di avere dei servizi on demand anche di piccolo taglio attivabili e disattivabili a seconda del bisogno infine l'area che piace di più a me quando penso ai clienti che chiamo comfort l'area comfort è la possibilità di svolgere quello che le banche sono costrette a dover gestire che è una parte burocratica e amministrativa dell'attività dovuta alla necessità di rispettare regole regole enorme senza tipicamente dover chiedere a un cliente di recarsi in banca per aggiornare queste pratiche noi oggi quante volte ci sentiamo dire dalla propria banca hai l'adeguata verifica scaduta devi venire a firmare ma perché devo venire a firmare se posso farlo da casa magari dal telefonino cambiando le informazioni se ho da cambiarle o confermarle e poi firmando digitalmente quindi il nostro obiettivo è creare una piattaforma di servizi che poi possa diventare un domani perché no anche un marketplace per determinate attività noi come banca territoriale potremmo proporle proprio a determinate imprese anche locali quindi modalità anche più open rispetto in modalità più open assolutamente sì sì questa è un'idea chiaramente poi tu toccavi il tema della standardizzazione del come dire dell'esperienza d'uso questo perché qui lo che hai detto non è niente no no esatto allora io credo che il digitale come concetto si presti no non avendo i costi di struttura ma solo di infrastruttura non che siano pochi ma si presti a essere personalizzabile no cioè l'home page di questi sistemi che ti ho descritto sarà diversa a seconda di chi è l'utilizzatore di quali sono le funzioni più usate di che cosa vuol se la potrà anche personalizzare tra l'altro scusa una parentesi ma interessante siccome questo progetto che ti ho citato è un progetto che si presta anche a il rischio di personalizzare sul gusto proprio no del magari dello steering committee del progetto determinate scelte di proposta io ho voluto evitare questo tipo di rischio affidando studi comportamentali prima della progettazione e test di user experience a valle dei di questi primi rilasci che stiamo facendo a una società di neuromarketing e quindi scienze che ci ha fatto ci ha fatto vedere in maniera scientifica cosa vogliono i clienti non solo nostri in questo caso anche prospect quali sono le grandi aree di mal di pancia quando usano una bancaria e quali sono invece desiderata e anche a valle di quello che abbiamo poi sulla scorta di queste indicazioni sviluppato stiamo testando se come rendiamo questi servizi dal punto di vista grafico e dell'usabilità sono compresi facili o creano difficoltà e in quel caso andiamo a modificare determinate scelte di sviluppo ecco quindi dicevo la parte digitale si presta per definizione no a essere personalizzabile la parte fisica è un po' più difficile però lasciami dire che qui ci possono essere degli spunti che stiamo anche un po' interpretando intanto parto già dal nostro progetto ti ricorderai che abbiamo chiamato guardare avanti che era quello di trasformare gli spazi classici in spazi più vicini al retail moderno lì abbiamo già cercato di dare delle forme diverse e quindi degli standard diversi di fruizione del servizio perché perché il servizio di transazione lo abbiamo offerto con due modalità quella tradizionale e quella con i multi vendor quindi i classici atm evoluti che fanno tutto l'area della consulenza diciamo che che tipicamente puoi andare ad acquisire in banca l'abbiamo offerta su due livelli abbiamo offerto una consulenza più tradizionale quindi in sale chiuse seppur molto moderne e molto belle dal punto di vista estetico ma in sale in cui ci si trova con tutta la privacy necessaria e anche massima dal punto di vista acustico oltre che visivo e poi abbiamo però anche offerto delle opportunità di consulenza che abbiamo chiamato light quindi dei corner che lasciano intendere una consulenza un po più informale su prodotti un po più facili dal punto di vista dei contenuti che non che non hanno necessariamente non implicano lo scambio di informazioni riservate che può avvenire in una logica più di retail tradizionale quindi in spazi dove puoi avere l'angolo di consulenza ma in modalità un po più open rispetto ai primi abbiamo offerto dei tavoli di ingaggio di prodotto dove l'offerta veniva rappresentata in mondi no coordinati dove presentavamo il mutuo potevi provare la tua rata e contestualmente vedere i prodotti accessori piuttosto che trascinare le coperture della polizza assicurativa sul touchscreen in un canestro e costruirti il tuo preventivo la tua polizza questo prima dell'attività di consulenza quindi abbiamo cercato di offrire un format che per quanto limitato dalla fisicità per cui non è che puoi variarla ogni 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 giorno avesse avesse e portasse con sede le modalità diverse tra loro adesso stiamo facendo come sai dei passi in più nel senso che stiamo cercando laddove andiamo a diciamo rifare le filiali che sono per noi comunque un asset fondamentale e quindi da valorizzare o in piazze particolari dove intendiamo in maniera selettiva anche aprirne di nuove andiamo a immaginare anche dei format che vedono l'ospitale degli shopping shop con altri servizi citavo prima la collaborazione con alperia sul mondo dell'energia e della luce parliamo di servizi parliamo non di prodotti fisici quindi parliamo di un mondo che comunque è affine no perché hai un prodotto immateriale da proporre e noi vediamo bene anche la condivisione di spazi la possibilità per il cliente di fruire di più servizi all'interno di uno stesso spazio e quindi andremo a provarlo piuttosto che diciamo a proposito di non standardizzare laddove vogliamo focalizzare la nostra proposta su un target per esempio private quindi di consulenza patrimoniale di fascia alta apriamo degli spazi ad hoc dedicati a quel tipo di clientela quindi dal punto di vista delle dimensioni sicuramente un po più piccoli dal punto di vista degli spazi lasciati alla transazione sicuramente un po più contenuti però dove lo spazio di consulenza è molto più valorizzato ecco quindi bene o male stiamo cercando anche noi di differenziare un po i format talvolta immaginando anche una modularità perché il tema dello shopping shop ci permette ben come idea di cambiare nel tempo anche la proposta di shopping shop perché il contenuto oggi inizia così non è detto che domani debba essere il medesimo crei un media alla fine no cioè se molto abituati a vedere quasi la parte media più più digitale più di comunicazione se pensi all'asse fisico come un media sul quale puoi far trasmettere determinati contenuti corretto e li fai girare li fai in modo diverso io sono abbastanza convinto che vedremo di più luoghi di lavoro staccati dai luoghi dove incontreremo i clienti e i clienti li incontreremo in diversi luoghi in base ai contenuti che ci saranno dentro in base al percorso che vogliono un po vivere che se ci pensi è esattamente la logica che è un po digitale no uso quella quel determinato tipo di interazione con l'app piuttosto che o quella sezione quando mi serve infatti anche il racconto che hai fatto a piattaforma è un po è un po il tema sul quale si sta un po lavorando anche sulla parte di esperienza soprattutto integrata e non solo fammi dire più digital quindi questo credo che sia interessante ora abbiamo quasi finito il tempo ci buttiamo fuori da soli chiuderei con una battuta che è un po anche un po lo spirito con quello abbiamo aperto questi palinsesti di torse con le persone che crediamo possano dare tanto valore anche a chi ci ascolterà ed è un po quello è adesso c'è la domanda ci siamo fatte adesso che è successo questo adesso che abbiamo letto milioni di ricerche che ci hanno detto cosa succederà nei prossimi tre anni eccetera però nel momento in cui non sappiamo ancora cosa succederà esattamente però probabilmente alcune cose ce le possiamo portare dietro no allora un tweet una battuta finale lato mio dico il mio il mio è la traduco in italiano una piattaforma una piattaforma opti canale cioè dico che quello che secondo me ci dobbiamo portare dietro è che le persone in questo momento in questo periodo hanno scelto su quale canale vivere in modo ottimale determinate tipologie di esperienze quindi più che avere la presa il presidio su tutti i canali da parte qui della dell'azienda nello stesso modo in modo più quindi standardizzato scegliere su quali canali far vivere l'esperienza ottimizzata per quel cliente perché la sta utilizzando in quel momento e magari ci saranno clienti che utilizzeranno sempre solo quel canale allora questo vi potrà lavorare un po di più in ottica di unicità questo è un concetto che abbiamo approfondito anche con ambrosetti che amici comuni che ci avete diciamo ci siamo trovati sulla stessa tavola insieme anche con giuditta che tu conosci che lavora e abbiamo fatto uscire un po di ricerca e credo che sia qualcosa che si è sviluppato tanto magari ancora il termine ancora le cose sono un po da studiare però anche nelle parole che tu hai citato questo tema di ottimizzare alcuni punti lo trovo interessante me lo porto dietro io guarda lo riprendo a questo punto dico quello che mi aspetto dal punto di vista dell'evoluzione di mercato più o meno lo abbiamo discusso diciamo nei minuti precedenti il termine opticanale provo a calarlo anche all'interno della realtà lavorativa quindi quello che mi porto dietro è l'aver capito la prova provata e quindi essermi tolto ogni dubbio in modo positivo che possiamo lavorare in maniera molto efficace e anche efficiente utilizzando più canali di lavoro cioè la modalità classica a cui eravamo abituati era la modalità dell'ufficio la modalità delle riunioni poi per carità con metodi di lavoro moderni agile tutto quello che vogliamo però la fisicità la sala dove trovarsi discutere e progettare e modellare le cose aveva una rilevanza fisica determinante se non unica perché diciamo altre modalità erano veramente eccezionali e forse più via telefonata col classico codice dove ti trovavi in dieci ma io credo che invece abbiamo capito che si può lavorare molto bene utilizzando questi canali come stiamo utilizzando tu ed io che in precedenza francamente erano utilizzati credo se siamo tutti onesti intellettualmente molto molto poco e questo ci permette di essere io credo spesso più produttivi quindi non voglio dire con questo che preferisco questo modus operandi all'altro modus operandi ma credo che sia complementare poi ogni fase di un progetto può essere più adatta per l'incontro fisico e meno per quello diciamo digitale o viceversa però a seconda del momento l'opticanalità o comunque la multicanalità che abbiamo a disposizione è perfettamente calabile anche nel mondo interno produttivo non solo nel mondo esterno di consumo di prodotti e servizi ma anche all'interno della produzione va bene ti ringrazio Stefano è stato sempre bello anche questa volta e ci vediamo presto però dai volentieri adesso sì perché abbiamo detto multicanale qui ultimamente è monocanale quindi speriamo che possiamo tornare dobbiamo prendere anche quella parte lì dai volentieri dai a presto ciao Marco